Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 18, 36esima nel complesso del settimanale sportivo di Fano TV. È un momento estremamente delicato, per certi versi cruciale nella storia dell'Alma Juventus Fano. La classifica dice, formazione Granata terz'ultima, ad un passo da quella che sarebbe la retrocessione diretta e sempre più lontana, dopo l'ultimo turno in cui è rimasta guardare gli altri dalla quota salvezza. Fuori dal campo, una transizione societaria che sta alimentando, inutile negarlo, tutta una serie di perplessità e dubbi. E per chiarire questi aspetti, per provare a disegnare l'orizzonte della squadra, abbiamo ospite. Questa sera a Sportissimo il nuovo presidente dell'Alma Juventus Fano, Salvatore Guida. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi tutti. Salvatore Guida si è presentato alla stampa e ai tifosi la scorsa settimana, dopo che il suo avvento alla guida del club Granata era stato annunciato nei giorni precedenti. Un'operazione che ha subito generato scetticismo. Qualche chiarimento è già arrivato in sede di conferenza stampa, ma vogliamo approfondire i contenuti di questa operazione che, mi pare, Guida voglia confermare in questa circostanza, ha riguardato l'intero pacchetto di quote dell'Alma Juventus Fano SRL che sarebbe passato appunto dalle mani di Mario Alessandro Russo e della TAP Technology a Salvatore Guida. È così? Assolutamente sì e a dirgliela tutta, lo scetticismo ancora oggi non riesco a capire perché. Sa, uno compra una società, ci mette del denaro e paga il po' che c'era di arretrato, perché parliamo veramente di poco, quindi ci mette ancora del denaro e genera comunque dello scetticismo. Quindi sinceramente io davvero non ho una roba mai vista, insomma, però va bene. È uno scetticismo generato anche dal fatto che si viene da una gestione complicata, quella degli ultimi mesi, con il presidente russo che ha più volte annunciato il proprio disimpegno, fino a mettere in piedi una cessione che poi è stata abortita nel corso dell'estate, poi si è arrivato a questo annuncio di dimissioni dalla carica di presidente alla riconsegna formale nelle mani del sindaco e da ultimo a questo ulteriore annuncio apparso sui social cui forse si deve la prima fonte di perplessità, nel senso che era stato detto è stata conferita la carica di presidente a Salvatore Guida, il che faceva presupporre che qualcuno, russo nella fattispecie, avesse indicato un presidente al suo posto, forse sarebbe stato più opportuno comunicare la società è passata di mano e nelle mani di Salvatore Guida. Può darsi che le cose siano andate così? No, assolutamente sì, la comunicazione in quel momento non la gestivo ancora io, la comunicazione sul, parliamo chiaramente del portale social, quindi Facebook della società, ha dato quella comunicazione del passaggio di poltrona presidenziale tra russo e me. In quel momento però per essere giuridicamente esatti mancava ancora il deposito nella raccolta dell'atto pubblico, quindi di fatto e di concreto non era stato ancora depositato, cosa che è stata fatta quel giorno dopo. Quindi diciamo magari chi è l'addetto alla comunicazione o chi ha scritto quel post che ripeto non l'ho gestito io, ha voluto essere preciso, questa precisione che poi magari può aver generato un po' di confusione, però ripeto tutto è rientrato, quindi sono contento di essere a Fano, città bellissima, la squadra ragazzi fantastici, quindi insomma la polemica di pochi giorni ha lasciato il tempo che trova. Questo trasferimento di quote è stato perfettamente eseguito in questi giorni, è operativo perché c'erano ancora dei problemi da superare, tempi tecnici che vanno oggettivamente riconosciuti? Sì sì, quello che non dipende da noi, cioè noi abbiamo fatto quello che dovevamo, anche il notaio, poi come in qualsiasi altra cosa c'è il deposito alla Camera di Commercio, sono i tempi della Camera di Commercio, però fondamentalmente operativamente la società ha piene funzioni, al 100% nel mio controllo, nelle mie mani, così come anche il conto bancario e di fatti lo stipendio è stato anche pagato regolarmente ai ragazzi. Questo è l'elemento nuovo rispetto alla conferenza stampa, cioè è stata corrisposta alla mensilità? Sì sì, assolutamente sì, è stata corrisposta alla mensilità già nella serata di ieri, mi sembra che anche questa mattina sia uscita una notizia proprio in merito a questo, anche se ci tengo a precisare che, come ho detto anche in conferenza stampa, non è una notizia, perché di fatto una SRL deve pagare gli stipendi così come ogni lavoratore deve riceverlo lo stipendio, quindi per me non era una notizia né nel negativo né nel positivo, diciamo che comunque visto che mi è stato chiesto si risponde. Però mi permette, è un discrimine importante in questo contesto, nel senso che chiaramente lei era chiamato alla prova dei fatti e aver pagato uno stipendio è un fatto. Allora anche quello è stato fatto, mettiamola così, quindi insomma possiamo, un'altra casella spuntata, mettiamola così, ora resta da spuntare soltanto la casella della salvezza sul campo che ritengo sia quella più importante e impellente. A questo riguardo chiaramente prendete in mano una situazione, non dico compromessa perché ci sono ancora tante partite da giocare, però sicuramente preoccupante. Dicevamo che i risultati dell'ultimo turno non hanno giocato a favore dell'Alma, che dovrà recuperare la gara con il Notaresco, un'Alma che tra l'altro se è finita in questa situazione di classifica e anche perché al di là di un quadro societario decisamente instabile, almeno fino a qualche giorno fa, ha dovuto scontare di quella gestione anche la scelta sciagurata di privarsi del principale attaccante, Tenko Rang, l'uomo che portava i gol alla causa e senza gente che segna poi è difficile vincere le partite. Questo è vero, per deformazione professionale non entro mai nel merito di scelte fatte nel momento in cui io non ero presente. È chiaro che magari avere avuto un attaccante in più in questo momento avrebbe fatto comodo. Tanto è vero, come anche detto, stiamo cercando di rastrellare il mercato, ma c'è veramente, veramente, veramente poco. Anche perché le normative sono un po' più stringenti sui tesseramenti, quindi tutto quello che si trova sono giocatori o non pronti fisicamente o giocatori non adeguati a quello che potrebbe essere la causa della salvezza del Fano. Preoccupante? Sì, sicuramente c'è da essere attenti alla classifica e ai punti. L'ultimo turno non ci è stato favorevole, è vero anche questo, però è anche vero che ci sono ancora 36 punti a disposizione. Ripeto, molta fiducia nel gruppo di ragazzi che adesso, magari anche psicologicamente e mentalmente, hanno una tranquillità in più. Quindi sanno che esiste una proprietà, sanno che il proprio impegno sul campo sarà sicuramente corrisposto da un premio maturato in denaro, sanno che comunque hanno sempre a disposizione una porta a cui bussare e quindi a cui far capo delle piccole e grandi esigenze che ogni ragazzo può avere. Quindi in questo abbiamo cercato di mettere tranquillo l'ambiente. L'allenatore sinceramente mi ha dato un'ottima impressione, lui ha un'eccezionale voglia di rimanere in questa categoria e quindi sono molto fiducioso. Ecco, diciamo poi è il campo che ci darà il vero risultato della cosa, però sono veramente molto molto fiducioso. Altrimenti non l'avrei neanche comprata e le dico la verità. Tornando al capitolo attaccanti, Scardina è un argomento chiuso? Sicuramente sì. E quindi non farà parte di questo organico, bisognerà andare avanti con gli elementi di cui si ha appunto disponibilità in questo momento. Ha fatto riferimento ad uno spogliatoio che pure aveva già dato prova della sua integrità in queste settimane difficili, si riparte proprio dall'unità di intenti che sta animando questo spogliatoio? Assolutamente sì. A proposito dello spogliatoio mi preme precisare una cosa. Mentre la città pensava al valutare il Presidente Guida, i ragazzi tutti, devo dire la verità, capitanati anche da Urbinati, che è stato il promotore nella tutela dei ragazzi quando la situazione non era molto chiara nel interpellare l'Associazione Italiana Calciatori, nel momento in cui io sono arrivato è stato lo stesso promotore nel richiamare quella situazione, quindi nel sospendere quello che era l'eventuale messa in mora della società nei confronti degli stipendi dei ragazzi. Quindi lui già di inizio mi ha dato fiducia, una fiducia che è stata ripagata. Quindi devo dire che a differenza di qualche persona della piazza che ha detto valutiamo guida, devo dire che i ragazzi invece hanno dato un credito alla fiducia, che spero nel corso del tempo di ripagare sempre di più, perché vede, quelli sono dei segnali che a me danno estremamente piacere, mi danno gioia e mi danno anche la voglia e la volontà di combattere per un qualcosa che so che è positivo. Mentre invece, sa, non è bellissimo sentirsi dire da qualcuno ti devo valutare, dopo che spendi una cifra tra un euro e mezzo milione di euro, più paghi gli stipendi, più paghi qualche piccola cosa arretrata, sentirsi dire la dobbiamo valutare. Insomma, non è stata secondo me la scelta più felice, così come non ho apprezzato la scelta di qualche giornalaio che ha, non un giornale in realtà né un giornalista, ma un giornalaio dove ha espresso a chiare lettere il pensiero di poche persone possa essere il pensiero di un'intera città. Quindi queste sono cose che non mi piacciono. Mi piace quando un giornale scrive la verità. Ora la verità le sa benissimo che può essere raccontata in due modi, o una verità farcita di ottimismo o una verità farcita di pessimismo che però resta un pensiero personale. Però quella verità farcita di pessimismo finisce poi per indurre le masse a seguire il tuo pensiero. Però queste sono mie considerazioni e verranno fatte. Sicuramente ci sono dei giornalisti e dei giornali molto più simpatici di altri. La sua trasmissione è fra i simpatici, altrimenti non sarei qui. Ma non è il nostro obiettivo essere simpatici o antipatici, ma semplicemente fare il nostro mestiere. Questo sì. Comunque, tornando alle perplessità che la piazza ha manifestato, sono da ricondurre anche sempre all'interrogativo di fondo. Ma cosa spinge un signore che si chiama Salvatore Guida a rilevare una società come l'Alma Juventus Fano, che non rientra nemmeno nel perimetro che in qualche modo attiene alle sue attività? No, in verità, io alla società volevo già prenderla dal mese di maggio 2023, quindi i primi contatti con l'ex Presidente Russo sono stati... Ma perché proprio l'Alma Juventus Fano? L'Alma Juventus Fano perché ha una città interessante, sul mare, come è anche la città dove io sono nato, in più per le mie attività potrebbe essere un grosso collante, perché io mi occupo fondamentalmente di ristorazione, di gestioni d'azienda e di caffè. Lì è una città, comunque in ogni caso turisti, è una città che ha un appeal sul mare, la vicinanza a Rimini, la vicinanza nella sua stessa città con tutti gli stabilimenti balneari che possiede e tutte le attività ricettive e ristorative che ci sono. Quindi questa è una domanda alla quale io rispondo, perché è la prima attinenza commerciale alla situazione. Per quanto riguarda invece l'attinenza sportiva, le devo dire che se lei si guarda fra la Serie D le piazze come Fano sono veramente poche, perché è una città che in ogni caso ha un seguito, è una città fatta da tifosi secondo me veramente fantastici, perché tengono alla squadra, seguono alla squadra e lo hanno dimostrato quando all'inizio volevano chiarezza, lo hanno dimostrato quando io la chiarezza l'ho data nel darmi fiducia, lo stanno dimostrando anche i continui messaggi che qualcuno di loro mi manda in privato parliamo dei tifosi della curva, quindi quelli un po' più accesi, quelli più ferventi, diciamo. Quindi devo dire la verità, ecco perché la scelta è andata su Fano, perché in Italia, mi creda, in Serie D ne sono veramente poche di società sportive di calcio che hanno fame di calcio come Fano. Sarebbe stato un conto comunque prendere l'alma in estate, è un conto diverso prenderla ora con questa situazione di classifica? Il denaro da me offerto in estate per l'ex presidente russo non era sufficiente, così come non era sufficiente il denaro offerto da altre cordate nell'ultimo periodo. Quindi ho dovuto fare uno sforzo supplementare per riuscire ad ottenere l'alma Fano Juventus, facendo anche una grossa scommessa, sia imprenditoriale che emotiva, cioè quella di riuscire a salvare questa squadra sul campo, perché è chiaro, se questa squadra si salverà sul campo avrò fatto un buon investimento, se la squadra non si salverà sul campo, ma non ci voglio nemmeno pensare, l'investimento sarà stato diverso. I dubbi su questa operazione erano originati anche dalle sue precedenti apparizioni nel mondo del calcio, non particolarmente fortunate, le vuole riassumere? Sì, sono stato a Grosseto per pochi mesi, la città di Grosseto è diversa da quella di Fano, perché la città di Grosseto è una città molto introversa, molto chiusa, e vorrebbe che tutto fosse di cittadini di quella città, quindi mi è stato chiesto con estrema cortesia e gentilezza di ridonare una squadra carica di debiti ai Grossetani, debiti, le ripeto, mai fatti da me, e questo lo sottolineo, perché non c'entra nulla il debito di Grosseto, quindi ho dovuto riconsegnare la squadra ai Grossetani e tranquillamente loro hanno preso la squadra, si sono salvati e stanno facendo un ottimo campionato. Le persone che l'hanno presa, quindi il gruppo che l'ha presa, un gruppo solido, brave persone con i quali in ogni caso non ho avuto nessun tipo di problematica, mi ha fatto anche piacere, non ho perso e non ho vinto Grosseto. Viterbo è una situazione diversa, perché Viterbo avrei voluto prenderla alla Viterbese, perché è vicino a casa mia, il problema di Viterbo era che la società aveva avuto due punti di penalizzazione e che stava retrocedendo, come infatti è retrocessa, quindi di conseguenza non c'era più l'oggetto da acquistare, perché io stavo acquistando una squadra di Lega Pro, non era più Lega Pro, era retrocessa, come infatti poi si vede che la Viterbese è nelle categorie dove è, quindi non mi interessava più. L'Arzachena invece non è stata semplicemente iscritta dalla precedente proprietà del campionato, quindi non c'era proprio nulla da comprare lì. Quindi diciamo che sono stato un po' rimasto fuori, come si direbbe, rimasto a piedi, insomma senza poter prendere nessuna squadra. E poi invece con il Fano ci ho provato, mi è stata rigettata l'offerta, ci ho riprovato in autunno, rigettata anche in autunno, ci ho riprovato in inverno e in oltrato e sono stato più fortunato. Si è parlato in questi giorni anche del carico di debiti che l'Alma Juventus Fano si trascina. Si può quantificare da una situazione gestibile? Guardi, fondamentalmente il debito dell'Alma Juventus Fano è veramente irrisorio, perché il Presidente Mario Russo è stato bravo e intelligente ad eliminare tutto il debito che sicuramente si è trovato molto maggiore del mio. Il debito attuale dell'Alma, escludendo una parte dove abbiamo una malleva da parte di una precedente proprietà, si può riassumere in meno di 400 mila euro. E quindi sostenibile? Assolutamente sì. Veniamo adesso al campo. Leggendo i risultati dell'ultimo turno, l'Alma, come detto, lo ha saltato con il notaresco. Entrambe le formazioni erano rappresentate all'interno della selezione del campionato di Serie D, che si sta facendo ulteriormente strada nel torneo di Viareggio. Con il successo di oggi sui brasiliani del Libra-Cina, la rappresentativa guidata da Gianni Chedda si è guadagnata la qualificazione ai quarti e se davvero la marcia proseguisse, si arrivasse alle semifinali, ci sarebbero gli estremi per chiedere un ulteriore rindio, anche quello della gara di domenica prossima sul campo di Piedimonte-Matese. Sempre scorrendo i risultati dell'ultimo turno, dicevamo, non particolarmente propizi all'Alma, perché le concorrenti dirette hanno vinto quasi tutte, come vediamo dalla classifica. Situazione che si fa sempre più precaria, Alma che precede di una lunghezza il Vasto Girardi e di due l'Amatese al terz'ultimo posto e ad una lunghezza, dunque, dalla retrocessione diretta. La quota a salvezza è lontana, ora otto lunghezze. Ricordiamo che bisogna rientrare sotto il tetto degli otto punti di distacco appunto dalla quota a salvezza per poi garantirsi i play-out. Ragionevolmente, in questa fase della stagione, vedendo questa classifica e anche tenendo conto della partita da recuperare, qual è l'obiettivo che la squadra Granata si deve porre? L'obiettivo che la squadra Granata si deve porre è sicuramente di vincere tutte le partite, diciamo, quelle delle immediate vicinanze in classifica delle squadre che incontreremo, di cercare di far risultato anche con qualche prima della classe. Ovviamente la classifica è preoccupante, destra attenzione, però sono convinto che questo gruppo può riuscire a dire ancora la sua. Ovviamente piacerebbe a tutti quanti salvarsi senza riuscire a disputare i play-out, cosa che allo stato attuale vedo abbastanza complicata, ma non impossibile. Ha giustamente detto la rappresentativa, ha vinto anche qualche ora fa, sì, giovedì rigiocherà, vedremo il risultato di giovedì e stabiliremo se giocare la partita di domenica a piedi Montematesi o di rinviare anche quella. Anche qui è una situazione positiva e negativa allo stesso tempo, positiva perché ci permette di ricompattare il gruppo e di recuperare anche qualche piccolo infortunato. Di contro bisogna dire che vedendo i risultati di domenica, se dovessero continuare così, anche psicologicamente il quadro potrebbe sembrare anche non veritiero avendo due partite in meno. Però c'è da dire che se giocassimo domenica a piedi Montemates, per esempio, avremmo il capitano Urbinati squalificato, mentre invece se riuscissimo a giocare prima con il notariesco avremmo la partita in casa con Urbinati squalificato e potrebbe essere una differenza non di molto tecnicamente, non parlo tecnicamente, ma soltanto a livello psicologico. Però ecco, qui sarà sicuramente bravissimo il mister a mettere la miglior formazione e cercare di riuscire a raggiungere il risultato. Io ho fatto una scommessa, credo molto in questi ragazzi, credo molto in questo gruppo, quindi veramente sono molto, molto, molto fiducioso. Il dato sicuro in questo momento è che l'esordio casalingo avverrà il 28 febbraio, mercoledì, con il notaresco. È un'infrasettimanale, si giocherà di pomeriggio perché questo prevede il regolamento. Ci sono iniziative allo studio per portare gente allo stadio vista la collocazione poco congeniale? Stiamo lavorando per riavvicinare tutta quella massa di tifosi che si era non disinnamorata ma allontanata dalla società ma mai dalla squadra dei colori e dalla maglia. Stiamo provando a fare questa campagna di riavvicinamento cercando di tendere una mano un po' a tutti e di invitare, anche con un lieve sconto sui prezzi in particolare della curva, di riavvicinare i tifosi a quello che è giusto che è loro, quindi la squadra, i colori e l'amore che ama. Perché poi vale la pena di sottolinearlo, anche se sarebbe superfluo, se davvero si vuol centrare l'obiettivo, il contributo dei tifosi è assolutamente rinunciabile, ai tifosi va dato atto che alla squadra hanno sempre manifestato concretamente il proprio affetto in casa e lontano da casa. Assolutamente sì, sono il tredicesimo uono in campo, io quest'anno ho avuto il piacere di vedere qualche partita in trasferta, non di persona ma su diretta Facebook, l'ultima in particolare quella di Termoli, dove anche lì c'era un discreto seguito di tifosi, quindi non hanno veramente mai fatto mancare il loro contributo e l'amore a questa squadra. E lo sottolineo e lo ripeto, anche l'amore che hanno dimostrato durante la conferenza stampa, anche semplicemente cercando di capire le mie reali intenzioni, fa veramente intendere quanto amore c'è per questo stemme, per questa maglia del fano. Devo essere sincero, ed è per questo che la conferenza stampa l'ho voluta aperta, per dare spazio anche a loro di parteciparvi, e non solo una conferenza giornalistica. Grazie a Salvatore Guida, contiamo di averlo ospite dal vivo nella prossima occasione. Noi torniamo fra qualche istante. ciclismo d'attualità in questi giorni, sabato al Teatro della Fortuna, la presentazione ufficiale della Martin Sicuro Fano Tappa, del Giro d'Italia 2024, che si correrà il 16 maggio. Ma il ciclismo è d'attualità anche a Sportissimo, perché abbiamo il piacere di ospitare Giovanni Carboni, corridore della JCL Team Ucchio. Buonasera e benvenuto. Ciao a tutti e buonasera. Partiamo proprio da quest'ultimo fatto, è la novità di questo 2024, dopo due anni difficili che racconteremo e che non auguriamo naturalmente a nessuno dei tuoi antagonisti. Hai avuto l'opportunità di rientrare nel giro con questa proposta che è arrivata dall'Oriente. Sì, è arrivata questa proposta in extremis e a conclusione dell'anno passato mi ha contattato Alberto Volpi e non potevo che accettare visto il progetto e anche vista l'importanza del manager che c'è dietro. Una scelta di campo, dall'Italia all'Oriente una squadra giapponese, tra l'altro messa in piedi da un ex pilota di Formula 1. Sì, c'è dietro la passione appunto di Ucchio Katayama e l'ambizione di arrivare nel ciclismo europeo affidandosi a un tecnico d'esperienza come Volpi e a uno staff italiano. Mi hai detto di un'organizzazione comunque di primo livello. Sì, siamo una squadra minore dal punto di vista di corridori, siamo solo in 12, però... C'è una significativa presenza italiana anche a livello di ciclisti, giusto? Siamo tre italiani e un direttore sportivo. Il bello è che appunto nonostante una squadra piccola però dal punto di vista tecnico, materiali, nutrizione, oltre che anche alla preparazione che ormai è fondamentale nello sport e nel ciclismo siamo alla pari penso di altre squadre. Il ciclismo già da tempo è diventato globale ma questa squadra giapponese dà un'ulteriore testimonianza di questa apertura del ciclismo verso altri orizzonti come quello dell'Estrema Oriente e ci sono anche corridori giapponesi. Sì, ci sono corridori giapponesi e mi sono anche stupito che delle loro doti perché abbiamo in squadra una particolarità proprio il campione del Giappone e devo fargli complimenti perché sai dalla nostra parte qua in Europa è un mondo un po' coperto, non conosciuto. Il ciclismo fondamentalmente è sempre stato europeo ma si stanno allargando gli orizzonti e le nuove tecniche d'allenamento arrivano anche in Giappone e devo dire che ci sono dei ragazzi molto validi. Quali obiettivi si pone la squadra a livello agonistico? La squadra in questo anno vuole partire e l'obiettivo principale è il punteggio fare punti per rientrare il prossimo anno come squadra professional e avere la possibilità subito di partecipare ai grandi giri. Quindi un grande stimolo anche per te nel momento in cui ti riaffacci con grande convinzione sul palcoscente. Sì, è un grande stimolo perché appunto quando parliamo di grandi giri il sogno di ogni ciclista è anche l'ambizione e la volontà di poter vincere dove è la tappa al Giro d'Italia o al Tour de France. Hai avuto modo in queste settimane di pesare questa nuova realtà e anche partecipare ad una competizione nella quale sei reduce? Sì, sono reduce da poco da Oman e Saudi Arabia Saudita dove ho corso la Lula Tour. Quali sensazioni? Sensazioni di partenza ancora la gamba ha bisogno di rodaggio in termini in gergo proprio perché non abbiamo fatto ritiri nel mese di gennaio né dicembre perché era difficile la logistica per spostare il team qua in Italia o in Spagna Alberto ha deciso di debuttare alle gare abbiamo avuto la possibilità e la tranquillità di poter fare rifinitura e cercare poi anche il risultato che abbiamo anche rischiato di vincere una tappa proprio a Oman la quarta tappa e quindi devo dire che siamo più che soddisfatti. Sono stati due anni difficili lo abbiamo anticipato proprio nel periodo in cui un corridore raggiunge la piena maturazione ti è successo prima di essere rimasto a piedi perché la Gazprom squadra prestigiosa che ti aveva reclutato è stata esclusa dalle competizioni per via del conflitto russo-ucraino e poi l'anno scorso una serie di incidenti che fanno impalidire la fama di Fantozzi perché prima un incidente in allenamento e sei stato fermo per un periodo piuttosto lungo poi un attacco di appendicite che ti ha portato in sala operatoria per non farsi mancare niente un altro incidente con tanto di trauma cranico qualcuno potrebbe osservare ti sei fatto bene rire nel frattempo? Sì facciamo le corna sempre però penso che lo sport vive di momenti belli momenti difficili purtroppo sono arrivati tutti nello stesso anno e come hai anticipato te in un'età in cui sei sul fior nel pieno della forma dell'attività della forma e dicono gli anni migliori cosa cosa pensare non lo so io ho sempre hai temuto per qualche istante o comunque hai pensato per qualche istante non ce la farò a ripartire ma sono sincero non ho mai non ho mai pensato di mollare ho tanta passione verso questo sport oltre che dal punto di vista lavorativo io lo vivo molto ancora come quando ero giovane e quindi la priorità mia è sempre stata la voglia di riscatto e la voglia di trovare l'opportunità e una squadra che continuasse a credere in quello che che ancora ho da dare perché effettivamente ho vinto la mia prima corsa professionista in un anno difficile poteva essere un bel punto di partenza purtroppo l'anno dopo è successo quello è successo ma come ho detto prima lo sport è anche questo l'importante è andare avanti vediamola questa tua unica sinora vittoria da professionista ci auguriamo che non debba restare l'unica in assoluto matura all'interno di questa competizione l'Adriatica Ionica Race in quell'edizione del 2022 toccata anche Fano tu sei ripartito da Fano dopo la vittoria mi pare colta il giorno precedente che tra l'altro che tra l'altro stavo vincendo anche quella tappa là se non la caduta in discesa mi ha messo fuori gioco questa è la Ferrara Bisighella se non ricordo male è una tua azione nel finale molto decisa che ha consentito di prendere il largo e di arrivare in solitudine al traguardo e vedremo anche la tua esultanza quasi rabbiosa perché appunto hai disputato questa competizione con la maglia azzurra tra l'altro che è sempre un onore indossare ma proprio perché la federazione aveva dato l'opportunità a corridori come nel tuo caso che erano rimasti fuori dal giro di tornare a gareggiare sì quell'anno lì devo ringraziare Ben Nati e tutto lo staff della Nazionale in primis anche Mario Scirea perché ci hanno dato una grossa opportunità di vestire la maglia azzurra in competizioni italiane e l'opportunità di metterci in mostra e appunto anche centrare dei risultati che potevano esserci utili per il proseguo della stagione ma anche della carriera vediamo ancora le immagini di questa tappa la Ferrara Brisighella che ti ha visto appunto tagliare il traguardo per primo la tua storia tu nasci nell'alma Juventus Fano se non ricordo male le prime soddisfazioni nel club che rappresenta appunto Fano nel ciclismo e che comunque continua ancora oggi a crescere talenti dopodiché cosa è successo? Ho iniziato nel lontano 2009 qua a Fano ho ottenuto subito delle vittorie perché da giovane devo dire sono anche contento di questo era più facile vincere e quindi diciamo che mi sono divertito in quegli anni è soprattutto divertimento ed è giusto che continui ad essere così Fano la squadra di Fano è sempre stata un bellissimo gruppo e scopri vivi il bello del ciclismo e il bello dello sport senza tanti pensieri ancora a quell'età il passaggio poi in altre formazioni a livello direttantistico e credo anche altre soddisfazioni sì sono ho fatto la categoria Juniors sempre nelle Marche con Mario Bolletta poi poi da under 23 sono passato subito in squadra Continental ho fatto un anno all'ex area zero poi Trevigiani squadra di livello under 23 e Team Colpac l'ultimo anno che poi mi ha permesso di passare professionista in Bardiani nel 2018 in quel periodo esperienze anche in azzurro sì fortunatamente ho per merito sono in azzurro da Juniors quindi sì ho fatto ho fatto campionati del mondo europei le varie competizioni poi della National Cup anche e soprattutto a livello di prove a cronometro se non ricordo male sì diciamo che quegli anni da dilettante avevo un bel feeling con la cronometro anche se l'unico rammarico è non aver vinto il il campionato italiano individuale perché ho fatto due volte a seconda una volta a terzo poi mi sono tolto la soddisfazione del campionato italiano a cronometro a squadra nel 2017 però non è mai come vincerelo in solitario il tuo passaggio tra i professionisti il mio passaggio tra i professionisti nel 2018 con la Bardiani con il gruppo di Reverberi il primo anno non ho fatto il Giro d'Italia ma ho corso altre corse a livello internazionale in Lombardia e al Giro d'Italia ho debutato nel 2019 ed è stato un debutto riuscito perché poi sei stato protagonista di una tappa in particolare con un quarto posto hai conquistato la maglia bianca che hai indossato a Pesaro sì diciamo che è uno dei ricordi più belli che ho da qua finora della mia carriera perché c'è stato il passaggio a San Costanzo città città di origine di origine è un bellissimo scenario che ricordo ancora con tutto il paese in festa poi l'arrivo a Pesaro ma anche l'acronometro del giorno dopo con l'arrivo a San Marino Riccione San Marino è stata una settimana fantastica una bella emozione e poi non solo anche il fatto prendi consapevolezza del corridore che sei comunque della possibilità che hai ha questo grande fascino il giro anche per chi lo corre sì il giro è una corsa amata da tutti italiani stranieri beh la nostra bellissima Italia penso che su questo ha un merito perché i percorsi del giro sono non sono uguagliabili hai dato un'occhiata al percorso di quest'anno di questo giro 2024 soprattutto alla platea di concorrenti che mi pare particolarmente agguerrita come la vedi? beh sarà un anno un anno importante ma secondo me sarà un anno in cui il giro d'Italia si rivaluterà molto perché come ho detto una platea di così di così livello non si vedeva da tanto e poi un atleta come Tadej Pogacar che tenta la doppietta la copiata giro tour è una cosa che non si vedeva da anni ma penso che il ciclismo ora come ora sta riscuotendo tanto successo proprio grazie a un atleta come Pogacar ma anche lui numero uno sì ora come ora penso sia il numero uno indiscusso e invece tra coloro che hai frequentato in questi tuoi anni da professionista chi ti ha particolarmente colpito non soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano e della personalità ma ti dico in questi anni ho vissuto molto il ciclismo alla pari quindi da un occhio esterno non ti saprei dire ti posso dire di atleti in passato che ammiravo e mi ci sono ritrovato in gruppo i primi anni come nel 2017 nel 2018 comunque ritrovarsi un atleta come Nibali a fianco è sempre un atleta di carisma e di importanza e vederlo anche poi gareggiare nei suoi anni d'oro come anche la vittoria della Sanremo che secondo me per un atleta come lui è una vittoria che significa tanto perché ha vinto su un percorso non ha dato le sue caratteristiche e questo secondo me è l'esempio di quando sei un fenomeno hai cennato anche la Sanremo hai corso anche quella grande classica assieme anche al Giro di Lombardia si respira all'interno di queste grandi classiche un'atmosfera particolare si respira aria di ciclismo antico perché sono corse che vengono fatte da da tanti anni e dall'origine del ciclismo e quindi respiri proprio quello che è la storia del ciclismo cosa ti auguri per il futuro immediato e più a medio termine il futuro immediato sinceramente che le cose vadano tutte lisce perché io come mettevo l'impegno se le cose vanno lisce poi io ci metto se le cose vanno lisce ci penso io al resto perché come mettevo l'impegno due anni fa come mi allenavo la serietà e il comportamento da parte mia è lo stesso quello che dico mi basta solo un poco di fortuna e come corridore per finire come ti racconteresti a chi non ti conosci come corridore come mi racconterei ma questa è una bella domanda le tue migliori caratteristiche diciamo no secondo me sono un corridore che in un ciclismo di adesso prima cosa è molto utile in una squadra ma con la capacità di saper vincere perché nel momento in cui posso giocarmi le mie carte come in una fuga come ho dimostrato al Giro d'Italia o in corsa tappe a livello italiano so nel finale quando c'è la possibilità di vincere so anche vincere e credo che la squadra che ti ha ingaggiato ti dia questa opportunità se non ho assolutissimamente interpretato male la squadra mi ha ingaggiato proprio per per raccogliere risultati e fare punteggio in squadre in scusami in corse minori quindi è proprio quello che Volpi vuole di lavorare seriamente e poi come dice lui il resto viene da sé grazie a Giovanni Carboni noi torniamo fra qualche attimo grazie a te e passiamo ora alla pallavolo non finisce di stupire la Smart System almeno in casa decima vittoria su dieci nell'ultimo turno contro un avversario di livello come Palmi condizionato sicuramente dall'assenza del palleggiatore titolare Cottarelli è in grado di impensierire seriamente la formazione di Irtussina in particolare nel primo set e nel quarto quello che la squadra di Mastrangelo è riuscita a far girare a proprio favore fino a condurre in porto felicemente la partita vediamo proprio gli scambi finali risolti grazie ad un errore piuttosto vistoso da parte del centrale avversario Maccarone che invade in occasione di questo scambio e poi al servizio vincente di Robertis lì piuttosto in ombra ma appunto determinante nel finale mentre nel primo set era stato il bulgaro Dimitrova a indicare la strada e nel secondo sugli scudi in particolare Merlo Smart System che ora deve fare uno scatto in trasferta l'occasione è fornita dalla gara che si disputerà sabato a Modica nel frattempo i risultati dell'ultimo turno hanno fatto sì che la formazione fanese tenesse comunque il ritmo delle migliori Macerati è tornata a vincere comunque sembra inattaccabile al vertice alle sue spalle Lago Negro passa anche sul campo di Napoli si ferma San Giustino ma soltanto perché osservava un turno di riposo classifica che vede appunto l'altra formazione marchigiana vantare comunque sempre un consistente margine rispetto a Lago Negro San Giustino Smart System e Palmi nell'ordine si apre adesso un periodo decisivo della stagione per la Smart System dicevamo dell'impegno esterno di Modica contro una formazione che sa farsi rispettare specie sul proprio campo e sono note le difficoltà lontano da casa della squadra Virtussina dopodiché impegno infrasettimale in campionato in casa contro la capolista Macerata e poi la Final Four sempre in casa avversario in semifinale il 2 marzo Mantova capolista incontrastata del Girone Nord poi in caso di vittoria finalissima contro la vincente della sfida fra Palmi e Savigliano un grande amore la corsa che interessa una platea sempre più estesa di appassionati poi c'è chi si è fatto un po' prendere la mano da questa passione e di maratone ne ha innellate parecchie addirittura più di 50 e una trentina d'anni fa un certo signore si è messo in testa l'idea di raccogliere in un circolo esclusivo tutti coloro che avevano disputato almeno 50 maratone è nato così il club Super Marathon allora erano in 12 i soci fondatori oggi si parla di 1200 iscritti naturalmente non tutti hanno disputato 50 maratone c'è anche l'adesione nel frattempo si è registrata anche l'adesione nel frattempo di tanti altri appassionati o comunque gente vicina a chi fa parte di questo movimento e in previsione della Super Marathon di Fano ottava edizione che si correrà domenica noi ospitiamo il presidente del club Super Marathon Italia Paolo Francesco Gino in videocollegamento con Sportissimo buonasera e benvenuto buonasera a tutti grazie abbiamo raccontato bene la storia di questo club Super Marathon per sommi capi ovviamente sì è nato a Purlì nel 96 da Sergio Tampieri poi si è sviluppato negli anni fino a diventare come ha detto lei adesso siamo 1340 soci di cui diciamo ben 950 hanno fatto più di 50 maratone gli altri stanno arrivandoci per cui è molto sentita la cosa abbiamo oltre a fare proseliti organizziamo anche gare proprio questa qui di Fano è stata la seconda gara con quella del presidente che abbiamo organizzato per la per la prima volta nel 2000 e se ricordo bene 17 esatto si tratterà domenica prossima si tratterà domenica prossima dell'ottava edizione chiedo da cosa è nato tutto qual è stata la scintilla l'occasione che vi ha portato a Fano dunque la storia racconta che un nostro socio Luca Iudi di Fano con il fratello Paolo Iudi aveva fatto su questo circuito una 24 ore nel 2010 2011 poi aveva smesso e noi stavamo cercando un circuito dove fare la nostra maratona legata all'assemblea nazionale perché è un po' itinerante e quell'anno ci capitò di farla a Fano e ci piacque questo circuito Marconi ciclistico l'abbiamo sempre ripetuta negli anni e adesso siamo all'ottavo anno lo scenario del circuito ciclistico Marconi credo che rappresenti l'ideale anche dal punto di vista organizzativo per una competizione come quella che mettete in piedi si ha tutte le caratteristiche ha un bel campo d'atletica all'interno in cui noi facciamo solo le docce usiamo come punto logistico quel comune ci ospita molto volentieri quest'anno purtroppo abbiamo l'handicap che ci sono dei lavori in corso per cui il circuito sarà un po' più corto sarà di circa 1800 metri invece di 2333 ecco qui si vedono le immagini di un'edizione precedente quella di due anni fa esattamente immagini raccolte dal drone mi pare sì 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 qui è il nostro ragazzo col drone che fa che fa le riprese abbiamo sempre avuto una discreta partecipazione l'anno in cui ci fu più partecipazione se ben ricordo era il 2018 abbiamo avuto quasi 500 partecipanti sulle varie distanze articolate questa manifestazione scusi su diverse distanze così da dare la possibilità anche a chi non ha magari tutto il fiato necessario per coprire la distanza lunga di cimentarsi comunque sì abbiamo quest'anno abbiamo una 10 km una mezza maratona poi una 8 ore praticamente si contraguardo maratona per chi può fermarsi prima per fare la maratona del circuito ridotto di quest'anno bisogna fare 29 giri per cui mentre la metà per la mezza maratona convengono a Fano da tutta Italia? ma sì noi i nostri soci sono da tutta Italia anche le nostre organizzazioni toccano tutta Italia noi dove ci chiamano i soci andiamo a organizzare da Forte dei Marmi a Livigno siamo stati anche in Calabria Catanzano poi dappertutto l'anno scorso abbiamo fatto l'assemblea non a Fano ma a Misano Adriatico l'anno prima a Pesaro quest'anno siamo stati a Roma perché abbiamo raggiunto più di mille soci ed è stato giusto festeggiare questa assemblea con un eco-maratona a Roma mi pare che nell'organizzare gli eventi abbiate un occhio di particolare riguardo per località di particolare pregio che possano così calamitare maggiormente l'attenzione dei vostri iscritti è così? beh sì non dico che noi siamo per l'inclusività però i posti sono esclusivi per cui si va da Forte dei Marmi a Livigno Val d'Aosta Torino Parco del Valentino abbiamo fatto due anni il campionato italiano FIDAL della 100 km adesso tra le tante che faremo proprio stamattina facciamo la seconda edizione della Maratona della Battaglia di Curtatone ingemellata con la Maratona di Pisa e poi tantissime altre iniziative vorremmo vorremmo portarle anche tante al sud chiamo tanti soci pugliesi speriamo dai speriamo nel futuro di portarle la nuova di quest'anno sarà la Maratona della Versilia il 6 ottobre si correrà da Via Reggio verso Forte dei Marmi mentre a Forte dei Marmi alla Befana di tutti gli anni facciamo 4 maratoni di fila però la manifestazione clou che si svolge da questi tanti anni è questa qui di cui io porto la maglietta sono 10 maratoni in 10 giorni sul Lago d'Orta che ha tanti proseliti soprattutto dall'estero tanti record mondiali anche perché tornando alla manifestazione di domenica prossima a Fano avete già il pulso delle iscrizioni quanti concorreranno e anche si può fare una suddivisione tra donne e uomini sono un centinaio al momento di iscritti forse il nostro socio di punta è Alessio Grillini che è arrivato secondo la comandatona di Roma tra uomini e donne c'è sempre circa come in tutte le gare c'è un 80% di uomini o 20% di donne e per quello che riguarda le fasce di età Eh le fasce di età qui siamo uno diventa lo vedo proprio perché vedo i nuovi soci diventa super maratoneta con 50 maratone dopo i 50 anni per cui i nostri soci hanno un'età media sui 60 anni e e poi vabbè non è che si fermano noi abbiamo il presidente onorario che ha 95 anni corre ancora la maratona e abbiamo a correre fa bene io ne ho fatte 520 addirittura però spero di continuare a correre per un po' di anni ancora piano piano ma cos'è che vi muove? beh quando si comincia soprattutto la voglia di mettersi alla prova di superare l'asticella sempre un po' più in alto poi quando si arriva all'asticella si comincia a galleggiare tra endorfine scoperte del proprio corpo che anche a 50 anni può fare certe cose si muove su due direzioni una è quella turistica cioè vedere dei posti nuovi correndo e l'altra è quella aggregativa su cui punta il Super Marathon Italia che ha voglia di stare insieme perché il nostro motto si corre bene quando si corre insieme chi vive da dentro questo movimento quali novità quali evoluzioni ha registrato in tutti questi anni direi in tutti questi decenni beh il nostro movimento è nato un po' come un movimento super agonistico cioè quando è nato i nostri primi soci tendevano molto ad avere ad avere voglia di fare dei buoni tempi e di misurarsi sempre con un certo con un certo una certa voglia per quello che ho il tempo nei decenni vedo che però la voglia di stare insieme si abbandona un po' il tempo e si va il nostro movimento è un movimento che si regge soprattutto sulla certificazione della maratona e la voglia di fare tanti numeri per cui alla fine dell'anno noi redigiamo una classifica in base alla quale abbiamo il numero di maratone che abbiamo corso durante l'anno alcuni nostri soci hanno superato le mille maratone e tanti sono lì per arrivarci per cui è la voglia anche di fare dei numeri e poi sono anche facciamo anche dei campionati noi per cui abbiamo due campionati uno proprio che riconosce ai nostri soci la partecipazione alle nostre gare e l'altra invece è di un circuito come questo che abbiamo noi le otto ore abbiamo 15-8 ore durante tutto l'anno e premiamo tutti quelli che vengono a fare queste otto ore in giro per l'Italia perché anche le otto ore coprono tutta l'Italia il messaggio che mi fare stiate lanciando con l'attività del club super maraton è che non è mai troppo tardi per cominciare anzi io adesso sono seduto su un divano e me ne pento alzatevi dal divano e correte perché è una cosa è un'attività che costa poco non serve assolutamente una grandissima preparazione però però dà delle grosse soddisfazioni perché mette il proprio corpo veramente dà un bilancio positivo di tutto io lo chiamo correre lo chiamo la voglia di purificarsi proprio la voglia di stare di stare benissimo col proprio corpo la dialisi un momento un momento l'ho chiamata anche la dialisi della crisi per cui adesso le crisi facciamo finta che siano passati però è una purificazione senza corda dicevo progetti per il futuro beh progetti per il futuro sono tanti abbiamo anche voglia di di stare uniti ci sono degli altri degli altri club stranieri con cui abbiamo i presidenti stranieri abbiamo degli ottimi rapporti e la voglia anche magari di fare qualche challenge internazionale per cui soprattutto questa qui che vi ho presentato prima la orta 10 in 10 a metà dei correnti sono stranieri per cui è molto bello anche correre all'estero tra amici e vederli correre qui in Italia questo è uno dei progetti poi abbiamo anche tanti altri progetti anche di beneficenza di voglia di stare e anche tante altre gare che i nostri soci ci chiedono di organizzare però quest'anno sono già 36 per cui è quasi una alla settimana è difficile starci dietro a tutte però vedremo dai concludiamo ricordando l'appuntamento di domenica prossima a Fano per l'ottava super marathon gli orari? tutte le gare partono alle 9 25 aprile domenica circuito Marconi a Fano via Fattori c'è un bel parcheggio poi per quelli che partecipano alle 8 ore c'è la pizza gratis da Fiore via Roma a Fano grazie grazie a Paolo Francesco Gino presidente del club super marathon grazie come sempre a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima Ate Ate inki grazie atagli